Se ne andò rapidamente dai festeggiamenti scudetto ad aprile, ma non sarà altrettanto veloce a lasciare Old Trafford. Wayne Rooney infatti era stato sonoramente fischiato dai tifosi del Manchester United non appena fu noto che lui voleva essere ceduto, ma il nuovo tecnico dei Red Devils, David Moyes, non vuole liberarsi di Rooney, ripetendo a più non posso che il centravanti non è in vendita. Secondo il più grande marcatore della storia del club, Brian Robson, gli strappi alla fine si ricuciranno. Rooney comincia una nuova stagione, segna qualche gol e vedrete che i tifosi lo perdoneranno, se c'è qualcosa da perdonare. Vi ricordate di Cristiano Ronaldo e Rooney quando ebbero quell'alterco ai mondiali del 2006? Dopo due partite Ronaldo stava già giocando alla grande a Old Trafford e tutti si erano dimenticati di tutto e adoravano Ronaldo. Lo stesso succederà per Wayne Rooney. Magari Rooney sente che il suo status di titolare fisso è stato danneggiato dall'arrivo del prolificissimo bomber olandese Robin Van Persie, ma Andy Cole, che visse le stesse vicissitudini 12 anni fa, ha un consiglio per lui. Conoscendolo gli dico che il Manchester United è un grande club che non si abbandona. Lui è un grande, lo sappiamo, e tutte le altre squadre lo vogliono, ma qui ha delle basi profonde. Robson gli fa eco anche perché nella sua carriera ha passato ben 13 anni nella parte rossa di Manchester. Wayne ha tutto quello che può desiderare qui e io spero che sia felice e continui a farci sognare, lo dico da tifoso del calcio e dello United. Io voglio vedere i giocatori migliori giocare per questa squadra. Dunque il tecnico lo vuole, i compagni pure, le leggende gli dicono di restare. Ma Rooney ha voglia di andare via e forse questi attestati di stima non riusciranno a fargli cambiare idea.